E quindi un grazie particolare se viene in topo con un applauso, grazie Orazio per tutto il mio cuore, grazie a tutto lo staff del Nuova Luna impeccabile come sempre. E allora, visto che oggi è l'epifania, quindi come abbiamo detto, si concludono qui le feste natalizie aspettando oramai il prossimo anno. Io vorrei dedicarvi, visto che vi è stato gentilmente, perché sto ben vicino un po' perché il proprio microfono mi stacca. Dicevo, è arrivato il momento di farvi ascoltare la richiesta, questo brano. Io studio questo che chiamo una brutta bestia perché chi lo conosce sa che non ha uno strumento molto difficile però che dà tante emozioni. Io non sono Paganini, ve lo posso garantire, faccio poche note ma cerco di farlo in colpore e spero di emozionarvi così. con dati appunto di farlo in colpore con gelievole finis Ave Maria Ave Maria Ave Maria Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.